Buongiorno, buon mattino a tutti voi, ben ritrovati per l'appuntamento con la carta stampata Occhio ai giornali qui in diretta tutte le mattine alle ore 7 dal lunedì al sabato. Vi mostriamo le notizie principali su Resto del Carlino e Corriere Adriatico in edizione locale ma guardiamo anche il calendario e le previsioni del tempo e allora iniziamo proprio da che cosa ci dice il calendario. Oggi è martedì 8 ottobre Sant'Ugo di Genova, il sole sorgerà alle 7 e 13 e tramonterà alle 18 e 38. Guardiamo le previsioni del tempo, per oggi cielo poco e irregolarmente nuvoloso, cumuli in arrivo dal mare, prevalenza però di schiarite nel pomeriggio. Non ci sono precipitazioni, le temperature in lieve diminuzioni e le massime invece sono stazionarie. Per domani, mercoledì, si complica un po' la situazione, vedete compaiono anche i fenomeni di foschia nelle valli e nelle prime ore del mattino. Però il cielo sarà per la giornata sereno o poco più nuvoloso, aumento delle nubi di tipo orografico nel pomeriggio. Anche per domani le precipitazioni non sono date, le temperature rimangono sui valori della giornata odierna. Raffiche di vento, è dato un vento di brezza tesa ma anche con raffiche di burrasca nelle zone interne e sud orientali lungo la costa. Quindi il vento, il vento forte farà la ricomparsa nella giornata di domani. Giovedì è all'insegna della variabilità ma anche della pioggia perché il cielo sarà parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni ci saranno, saranno brevi piovaschi o isolati anche rovesci nel settore appunto nord della regione e soprattutto nella parte seconda della giornata, quindi nel pomeriggio. Le temperature però sono in lieve aumento. Questo è il panorama, almeno dal punto di vista meteorologico, per i prossimi giorni. Entriamo subito nelle pagine dei giornali. Iniziamo dal capoluogo di Regione, dalla pagina del resto del calino di Ancona. La perizia sulla cima usurata che uccise Luca, la tragedia al porto. La perizia è una perizia da shock, era inadeguata questa cima, questa cima dormeggio. Ma poi la fotonotizia è per la ricerca, l'università che vedete la ricerca viene eseguita in queste condizioni, spazi inadeguati, strumentazioni obsolete, spazi ristretti e pochi dottorati. Quindi è veramente in una situazione precaria. Gomme bucate, ci sono la crona che caccia alla banda. Naturalmente i carabinieri mettono in guardia da questi vandali. Ma di spalle poi c'è il successo della Vespucci, che oggi ha un nuovo comandante. Oltre 15.000 per vedere questo capolavoro, questo gioiello della Marina Militare Italiana, che è rimasta nel porto di Ancona per quattro giorni. E poi guardate questa foto, una foto di ordinaria follia, perché è stata una giornata veramente impegnativa a Tolentino. La giornata di ieri, questo uomo, oltre 60enne, scende nudo in casa, si barrica. Dopo vedremo la notizia. Fucile caricato a pallettoni, scende per strada, una città nel panico, ma viene arrestato e bloccato grazie al sangue freddo dei carabinieri, che evitano veramente il peggio. Ma veniamo a casa nostra, a Pesaro. Si parla anche qui della cronaca, della cronaca che c'è stata nella fine martinata di ieri, nella zona di Pantano, per questo assalto alla farmacia da parte di un uomo, che vedete qui nella foto della videosorveglianza. E questo qui, ve lo cerchio, torna la paura, perché armato di coltello, di taglierino, adesso bisogna vedere, insomma, una lama lunga, è entrato dal retro, ha minacciato i presenti e anche la direttrice gli ha detto dammi soldi e quindi, insomma, è stata veramente una mattinata di grande paura. Poi a casa del sindaco di Tavuglia arrivano i ladri, rubati i gioielli e contanti, però l'apertura è sì alla rinascita di Pesaro Studi, quindi si pigia sull'acceleratore. Ricci, dopo l'ok dal consiglio, ora incontriamo Vilberto Stocchi, il rettore di Urbino. Celletta, meno verde, sì al centro commerciale, passa la variante, però non bastano quindi i ragazzi di Fridays for Future per bloccare questa operazione e anche la scuola del Tonelli che perde la sua autonomia e quindi parte la rabbia dei genitori e degli studenti. Andiamo nella pagina d'apertura del Corriere Adriatico, anche qui l'apertura per le varianti della Discordia, come abbiamo visto prima, sia al supermercato La Celletta e anche per la palazzina Albenelli, ma la fotonotizia è per il bandito, eccolo qua, un'immagine della videocamera che minaccia clienti e la cassiera per portarsi via un bottino di 700 euro con un coltello. Il tutto è avvenuto nella farmacia comunale di Via Dandolo a Pesaro. Poi entriamo nelle pagine interne, eccola qua, dai sbrigati, dammi i soldi, queste le scarne parole dell'uomo, bandito solitario in farmacia, prende i soldi e scappa, vedete qui la polizia scientifica che esegue i primi rilievi, volto coperto, un passo a montagna, occhiali da sole, ha minacciato la direttrice e una cliente, e ora si fanno i rilievi e si analizzano anche le immagini di videosorveglianza che tra l'altro lo ritraggono anche attorno alla farmacia, in una specie di sopralluogo o così per prenderci un po' le misure qualche minuto prima di entrare. Più controlli in quel parcheggio, siamo ai nodi della città, dopo la rimozione della sosta in Via Passi e l'apertura del Museo Rossini restano ancora i problemi di parcheggio per i residenti. Più controlli in quel parcheggio, quindi in sosta auto prive di permesso, lo chiedono i residenti che rivendicano i loro spazi lungo Via Overdan per parcheggiare come loro diritto. Il Comitato di Bordo di San Matteo, Santa Maria cala il poker, loro dicono bastano solo quattro modifiche per migliorare la sicurezza, ha consegnato un documento al sindaco, li vedete qua riuniti insieme al documento che hanno presentato, ma loro dicono ci ignora perché ci crede ostili, ma le nostre sono proposte sensate per migliorare la situazione. Anche nelle pagine del resto del calendario di Pesaro il colpo in farmacia a Pantano, datemi i soldi, fugge a piedi e adesso si cerca di ricostruire tutta la vicenda. Vedete questa è un'immagine della farmacia con la polizia scientifica che va al suo interno per fare i rilievi. Ora è caccia all'uomo da parte della polizia. Ma così, ecco la notizia della scuola, il Tonelli è destinato a sparire perché l'istituto perderà l'autonomia, un po' come è avvenuto qua a Fano per il Battisti, esplode in consiglio la rabbia dei genitori. Il problema naturalmente, come sempre, sono le iscrizioni in calo. Ma l'argomento del momento per quanto riguarda Pesaro è l'università. Si ricerca questa rinascita, soprattutto anche in virtù del movimento economico che gli studenti portano. Abbiamo visto i calcoli su un migliaio di studenti, qual è il volume d'affari che si muove tutto attorno, quindi sono tutti d'accordo. 20 a favore su 26 e gli astenuti sono stati 6. Questo è stato il voto del Consiglio che dice sì e quindi Ricci ora va in missione da Stocchi per capire che cosa può arrivare a Pesaro. Celletta vince il cemento e anche qui le proteste, come abbiamo visto dalla prima pagina, dei ragazzi di Fridays for Future. Il comitato ambientalista non basta per fermare la variante. Li vediamo qui proprio in comune davanti alla sala del Consiglio, qui siamo proprio nel salone principale e quindi niente da fare, è passata la variante. Andiamo a vedere cosa succede nelle ballate. Passiamo a Vallefoglia. Vedete qui Palmi Rucchielli, ieri protagonista di Primo Cittadino a Fano TV con le sue considerazioni, più fondi europei con un servizio per i prodotti locali, si parla di economia e di progettualità. Morciola diventerà polo tecnologico per l'innovazione agroalimentare, un patrimonio. Questo dell'agroalimentare nella provincia di Pesarobino che sta dando grande soddisfazione, soprattutto per i tanti piccoli produttori, colmando un po' il gap che purtroppo il terziario e il secondario hanno creato con la crisi. E quindi insomma il mondo dell'enogastronomia e delle produzioni locali stanno un po' risalendo la china e riportando l'economia locale verso numeri più confortevoli. Porto, c'è spazio, non c'è spazio per passeggiare. Questa è l'allarme lanciato da Tonino Giardini perché in vista della prossima estate, perché è partito anche qui oltre che il loro cantiere per quanto riguarda le infrastrutture, sono partiti anche i lavori, se andate sulla passeggiata dell'Isippo ve ne renderete conto, sono partite le ruspe anche nella zona dedicata alla cantieristica e quindi insomma ci sarà un andai e rivieni di camion notevole fino a quando non saranno terminati i lavori e questo è un po' l'allarme che lancia Giardini. Ma cittadini virtuosi, eccoli qua, è un po' come è stato anche a Pesaro per quella signora di origini asiatiche, abbiamo anche noi una cittadina virtuosa, si chiama Miriam Boccarossa, la spazzina fai da te per le strade di Calcinelli, guardate, eccola qua, armata di ramazza e bidoni. Lei è casalinga ma insomma pensa che il senso civico sia importante nella vita di ognuno di noi e si mette all'opera per pulire le strade, dovrebbero aiutare tutti, dice questo il suo pensiero, abbiamo un solo addetto che non riesce a far fronte alle esigenze e avendo tempo a disposizione è una cosa che si potrebbe anche fare. Statale, una strage silenziosa, chi fa il focus su questa situazione sono i residenti di Metaurilia, lungo la Statale, veramente è una sequenza interminabile quella degli incidenti appunto nell'Adriatica che inghiotte vite e dice appunto il Comitato non c'è famiglia qui da noi che non abbia un morto in famiglia per la strada appunto, forte messaggio corale per chiedere la messa in sicurezza di alcuni punti, restringimento e separazione delle due corsie di marcia in alcuni punti. Pensate ecco da un loro dato espresso nella frazione si contano 25 vittime, una strage in realtà sono molte di più perché tante vivono altrove, 25 sono quelli residenti, pensiamo anche a tutti quelli di passaggio, ai turisti, insomma veramente sono numeri che fanno rabbrividire. Arresto cardiaco salvato dall'uso tempestivo del defibrillatore, ecco che cosa succede ad averne uno a portata di mano, questo è il dottor Caverni dell'ente volontariato Fano Cuore che illustra con un manichino come si utilizza in maniera corretta un defibrillatore, il cardiologo e l'associazione Fano Cuore si batte da tempo per una diffusa cultura del pronto soccorso, del pronto intervento, ormai questi strumenti, questi presidi di primaria importanza sono quasi tutti autonomi nel senso che basta leggere un po' le istruzioni, capire come vanno posizionati gli elettrodi e poi la macchina, gli strumenti, quelli più avanzati fanno l'autodiagnosi, valutano se dare la scarica oppure no, fanno un ECG del paziente, insomma l'importante è cercare di essere lì presenti, poi la tecnologia ci viene in aiuto, certo che un minimo di, anche in questi casi lo diciamo, anche perché i defibrillatori sono sparsi in diversi punti di diverse città, insomma un minimo di istruzione bisognerebbe averlo, però come ultima razza o piuttosto che lasciare lì una persona in fin di vita si tenta il tutto per tutto, però se è possibile cercate anche di avere un'infarinatura di questo e le associazioni servono appunto anche per questo, per avere un minimo di infarinatura perché alle volte veramente essere lì in maniera tempestiva può salvare una vita umana andiamo e continuiamo a parlare di quello che avviene nella città di Fano ora spuntano due Antonio da Fano, non ce ne bastava uno, adesso due ad abundanziam erano Agostiniani e non Francescani, l'articolo di Massimo Foghetti si fa un po' il punto della situazione, la scoperta di Giuseppina Boiani e Tombari sulle fonte storiche, coevi, ma dalle vite separate, questi due Antonio da Fano ancora nelle pagine però che guardano nelle vallate, strappo 5 stelle dalla Felice lascia la Giunta e il Consiglio, dove siamo? siamo a Fossombrone e quindi il Sindaco riferisce dimissioni irrevocabili giovedì continuerò, comunicherò chi mi sostituirà ecco vedete l'assessore della Felice che abbandona il campo lascia il primo cittadino e quindi nell'assise gli subentra Spallacci l'assessore aveva attaccato il Sindaco Bonci dolori quindi sull'urbanistica per cui insomma a Fossombrone il primo cittadino ha qualche gatta da pelare dalla Val Cesano andiamo a San Lorenzo in campo arriva l'allevamento Fileni una raffica però di osservazioni perché Fileni, sapete, è un allevatore di locale di Carni nelle sedi dell'ex AquaTer arriveranno 26.000 poli all'anno poli all'anno, quindi un allevamento intensivo interrogativi ovviamente dei residenti su emissioni e anche sulla zona archeologica limitrofa andiamo a vedere a Tavuglia c'era il lancio nella prima pagina ecco qui nella foto vedete Francesca Paolucci il Sindaco che ha avuto la visita e la razzia dei ladri nella casa si sente come tutti quelli che hanno avuto un'esperienza del genere intimamente violata è sempre così rubati monili d'oro oggetti di valore con tanti finestra forzata in un momento in cui era assente da casa un copione abbastanza usuale apriamo le pagine di Urbino Montefeltro Explorer c'è flop in 4 meoli di solo 55 passeggeri questa esperienza non è andata a buon fine il caso è sollevato da Giorgio e Luca Londei la navetta bus vuota in 105 dei 160 viaggi fatti la presentazione di Montefeltro Explorer ecco lo scorso maggio insieme al Sindaco Gambini e Vittorio Sgarbi ma sembra che questa esperienza non è riuscita a veicolare i turisti come era sua intenzione almeno in quella dei almeno in quella dei suoi promotori la pagina del resto del callino di Urbino ve la ridimensiono una solenne cerimonia per il sigillo d'Ateneo al professor Nuccio Ordine ci sarà giovedì nell'aulamagna dell'area Volponi chi è Nuccio Ordine è un cattedratico è un professore ordinario di letteratura italiana all'Università della Calabria è già stato ospite dell'Università di Urbino a novembre 2014 e terrà anche in questa occasione una Lectio Magistralis sull'economia e quindi insomma è un momento di riconoscimento per lui e per il suo lavoro vi faccio vedere le ultime pagine da Ancona l'abbiamo visto nel lancio della prima pagina è morte di Luca la perizia è shock Luca Rizzieri è un agente marittimo di 33 anni originario di Pavia ma il 10 giugno scorso è stato vittima di questo incidente sul lavoro un incidente mortale questa cima è una cima che non doveva essere usata un colpo di frusta che ha spezzato la sua vita e si spezzò perché non era idonea all'ormeggio del porta-container un porta-container di queste dimensioni vedete ha bisogno di cime molto più strutturate usurata da almeno 4-5 anni questi sono i dati shock della perizia che ha fatto un punto fermo sulla morte di questo operatore portuale Pianeta Università abbiamo visto dalla pagina di Ancona anche che Langue questa è ridotta così la ricerca il professor Battino dice pochi dottorati vedete spazi angusti fondi scarsi scatoloni in mezzo alla stanza insomma non è proprio il massimo dove effettuare dei dottorati di ricerca e la ricerca che Langue è sicuramente un problema per l'Italia e adesso guardate qui queste sono le foto di quest'uomo che ha gettato il panico per Tolentino una città blindata si è barricato prima in casa in camera di letto con insomma la madre e tre fucili da caccia ha sparato dei colpi insomma è stato veramente ore di paura ma grazie al sangue freddo e alla prontezza dei carabinieri che sono intervenuti in forza e con alto senso del dovere è stato bloccato fermato e assicurato alla giustizia senza creare senza creare insomma gravi conseguenze veramente è armato di fucile per strada fucile carico tra l'altro insomma quindi veramente allora marciapiede trappola siamo a Senigallia Sosta Selvaggia parla la mamma di questo ragazzo disabile il parco dice per lui è vietato dovrò realizzare delle pedane personali per rendergli insomma la vita meno difficile e percorrere il vialetto che tra l'altro è anche Piero di Ciotoli per arrivare in uno spazio aperto vedete qui come sono conciate le strade questa è l'isola naturalmente il passaggio pedonale con un motorino che giustamente ha pensato bene di parcheggiare lì perché non c'era altro di meglio da fare a Senigallia per il resto del carlino si parla di affitti la polizia passa al setaggio le case con extra comunitari affitti brevi proprietari nel mirino perché sanzioni per chi non segnala la loro presenza in questura andiamo a vedere subito di volata le pagine perché incombe la messa da Loreto Ancona cima usurata così morì Luca ma la fotonotizia è per la ricerca è l'università di Ancona con la ricerca appunto che langue ma il grosso successo è per la star la Merigo Vespucci con oltre 15.000 presenze per visitarla ed ecco qui la notizia la foto scioccante dell'uomo in preda a confusione e disordine mentale che si è gettato per strada armato di fucile scioccato lentino un ore di ordinaria follia ma per fortuna i carabinieri hanno chiuso questa vicenda a Pesaro invece si parla della rapina a Pantano nella farmacia uomo armato di taglierino con il volto coperto si fa dare l'incasso ma sì alla rinascita di Pesaro Studi l'università che torna a Urbino a Pesaro in cassa l'ok del consiglio e quindi ora Ricci va da Stocchi per quanto riguarda il Corriere Adriatico anche qui foto notizia per l'assalto alla farmacia e bandito incappucciato minaccia clienti e cassiera e invece la notizia di apertura è per le due varianti della discordia in aula incassano il via libera sul supermercato alla celletta e alla palazzina al Benelli e quindi insomma l'opera dei ragazzi del Fridays for Future non sortisce buoni effetti passa la variante e così è benissimo grazie per essere stati in nostra compagnia siamo arrivati in fondo alla rassegna stampa questa sera vi ricordo occhio alla notizia alle 20.30 nel nostro telegiornale telegiornale di Fano TV questo è il numero che però potete utilizzare per le vostre segnalazioni o per mandarci e entrare in contatto con la nostra redazione grazie e buona giornata a tutti voi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.